Dal 4 al 6 aprile l'Università di Salerno idealmente si sposta con la sua presenza all'Università dell'Havana per un convegno di diritto comparato. Sì, sarò lì come relatore, parleremo, il tema sarà quello della comparazione giuridica e quindi insomma sono stato il mio paper, la mia relazione è stata approvata dal Comitato Scientifico per me è un grande onore, direi anche un grande privilegio poter portare la voce di un giurista appunto comparatista italiano lì in Latinoamérica e bisogna anche dire un'altra cosa secondo me importante che l'intenzione del nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche è in prospettiva, in prospettiva prossima è quella di creare appunto un focus di approfondimento, di conoscenza e anche di relazioni con Latinoamérica e per quanto riguarda il convegno sono stati invitati anche altri docenti italiani, per la verità siamo forse una decina, in un totale di relatori che sfiora i 250 relatori.